Allora andiamo avanti Elisa Neri, 12enne, giovane cantante molto sensibile ai problemi sociali stasera presenterà un brano che probabilmente pochi di voi conoscono ma che contiene un messaggio molto forte Sweet People è il pezzo con il quale la cantante ucraina Aliosha a Eurovision 2010 lancia l'appello di salvare il pianeta rivolgendosi ai leader mondiali convinta che sono in grado di risolvere la maggior parte dei problemi sociali e ambientali globali criticando la mancata volontà politica Signori e signori Elisa Neri Signori e signori Signori e signori Tell me who's happy For all the roots I'm born in the sky Oh, sweet people Have you not long for mankind Bossy gone, don't care Just to rise to the tide The message is so true The end is really near Oh, this feeling, take me down These tears, they feel so dear Yes, the message is for you Don't tell me if we have to stop Because, because, because This is your part Oh, sweet people One of our own children She did do a video game Do what, what we said to you Oh, sweet people Won't end to the day And we all feel free Don't want us to 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 feel free Because, because, because Oh, sweet people This is your part Elisa Neri, bravo Elisa, bravo Pubblico sulle braccia per Elisa Neri, grazie Chiediamo il nome a questa bimba bellissima, come ti chiami? Raya Ho dovuto pensare, perché non è di sicuro? Perché non è di sicuro, ma se nessuno mi capisce Bravo, non hai un po' qui Grazie a tutti Il pubblico ha votato, grazie Elisa, grazie Elisa, scusa Elisa, perdonami, quanti anni hai Elisa, lo vogliamo dire? 12 12 anni Quante ore studi al giorno canto? Più o meno un'oretta al giorno Scusa? Un'oretta al giorno Un'oretta al giorno E beh, guarda che non è poco, è già una bella cosa Brava, complimenti, in bocca al loro Brava Elisa, brava Raya Grazie Andiamo avanti? Andiamo avanti Grazie 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 Grazie